Inizierà domani l'evento di punta del Natale a Battipaia. Si tratta delle videoproiezioni tridimensionali sulla facciata della Scuola di Amicis, che andranno avanti fino al 5 gennaio. Le proiezioni dureranno 4 minuti ogni sera. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna Serre d'Inverno passeggiando sotto le stelle, ideata e promossa dall'assessore al turismo Francesca Napoli e dall'assessore alle politiche sociali Michele Gioia. Grazie per la visione!